bene buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo contenuto grazie di essere qua dunque oggi faccio un video che va nella direzione del video precedente in cui avevo parlato della workstation dedicata bitcoin creata con un sistema operativo debian che ho introdotto appunto in questo video nel quale vi mostravo i motivi per i quali è importante in termini di ordine in termini di gestibilità in termini di sicurezza in termini di confidenzialità usare appunto un computer dedicato al proprio business con bitcoin e che sia creato in modo ordinato semplice facile da gestire e adatto ad essere anche consegnato a un certo momento ad un'altra persona o gestito da qualcun altro della propria famiglia per esempio se non si è più in grado di fare se non lo si vuole fare eccetera eccetera quindi diciamo che sia adatto anche a chi non ha tantissimo skill a riguardo in particolare è importante di tenere ordinati i dati riguardanti le transazioni anche per un motivo di gestione quindi di tracciabilità dei propri fondi di gestione autonoma eccetera eccetera il cosiddetto sportello personale bancario nella propria stessa banca avevo detto anche che avrei mostrato come fare ciascuno degli step per lo meno gli step più importanti di questa installazione perché in questo video avevo mostrato diciamo tutto il quadro generale dell'operazione suddiviso per step vari ma non avevo ovviamente non avevo potuto entrare nello specifico operativo di ciascuno di questi step avevo detto che avrei poi eventualmente gestito in separati video queste cose quindi ho già fatto un video a riguardo della prima parte cioè l'installazione della debian 12 a partire da zero installata con la file system cifrato e quindi da zero fino all'installazione quindi chi non ha visto questi due video ovviamente dovrebbe andarsene a guardare nell'ordine giusto quindi prima quello generale poi quello dell'installazione chi li ha visti e magari non è ancora chiaro il primo step vi consiglio prima di ovviamente riuscire ad arrivare in fondo all'installazione e poi di andare a guardare questo video successivamente prima di continuare vi ricordo che in questo canale ci occupiamo di bitcoin lighting network e nostre focalizzati sulla libertà finanziaria e quindi diciamo forniamo contenuti skill approfondimenti e auto per quanto riguardano appunto questi questi argomenti se siete interessati a questo sottoscrivete il canale marcate le notificative per non perdervi i prossimi contenuti che rendo disponibili gratuitamente su questo mezzo con una certa cadenza abbastanza serrata dunque veniamo un po al tema di oggi quindi oggi da dove partiamo in sostanza partiamo dalla nostra debian 12 installata da zero fresca fresca nuova di secca e pronta a funzionare quindi ci troviamo sostanzialmente in questa situazione abbiamo la nostra bella debian con il nostro bel menu e sostanzialmente la prima cosa che avremmo voglia interesse a fare sarà quella di andare sul terminale naturalmente tutti quelli che sono più skillati potranno o anche chi non è tanto skillato ma dopo un po che ci smanetta potrà voler creare personalizzazioni andare a cambiare il terminale fare determinate cose naturalmente potete fare tutto quello che volete l'importante è che mantenete questa workstation con il minimo software necessario e solo cose che siano inerenti a bitcoin e alle vostre operazioni finanziarie quindi il consiglio di non andare a mescolare delle cose che non c'entrano niente per non creare della complicazione della complessità che esattamente quello che vogliamo evitare in questo tipo di configurazione dunque oggi cosa guardiamo oggi andremo a guardare la prima di tutto la questione dell'utente cioè faremo diventare quest'utente adatto a poter eseguire anche operazioni amministrative questo perché ci servirà di installare dei pacchetti ci servirà di fare determinate cose lo vogliamo fare con quest'utente non come come root vi ricordo che durante l'installazione comunque abbiamo dato la password anche all'utente root quindi la sappiamo abbiamo creato quest'utente non privilegiato nel mio caso è questo qui con cui sono logato e la seconda parte di questo video andremo a vedere come installare e gestire il la nostra una chiave gpg quindi una chiave di cifratura gpg e andremo ad attaccare a questa chiave il un gestore di password dalla riga di comando molto utile molto funzionale nello scopo preciso di questo di questa workstation quindi andremo a vedere una cosa specifica molto più flessibile di altre soluzioni grafiche che magari non ci non ci garbano e quindi andiamo andremo a vedere per benino queste cose qua quindi la prima cosa che andremo a fare adesso è fare diventare il nostro utente non privilegiato come un utente in grado di eseguire anche dei comandi amministrativi dunque diventiamo un momento root per fare questa cosa qua e andiamo a fare user mod meno a g sudo il nostro utente facciamo questo comando lui non ci ritorna niente questo non fa altro che aggiungere il nostro utente al gruppo sudo questo ci permetterà di lanciare dei comandi tipo per esempio questi sono comandi ordinari ma potremmo voler installare qualcosa quindi potremmo dover fare comandi di questo genere e lui li potrà fare chiedendoci la password la password di riconfermandoci la password dell'utente ordinario che stiamo usando e questo è molto comodo potreste dover dopo aver fatto questo comando ritornare dentro con l'utente per far prendere la modifica adesso che siamo arrivati a questo punto qua andiamo a fare alcune operazioni allora la prima cosa successiva da fare è andare a installare gpg andiamo installare gpg nel nostro caso adesso già installato e poi andiamo a installare il comando pass allora il comando pass pass in realtà è un password manager alla riga di comando estremamente utile in questo caso cifra tutto attraverso la nostra chiave gpg quindi prima cosa lo installiamo in questo modo qua lui lo installa regolarmente andiamo a fare pass come vedete mi dice errore il pass store è vuoto dobbiamo inizializzare allora che cosa facciamo prima cosa che facciamo adesso fare gpg list keys e siamo e siamo vuoti non abbiamo nessuna chiave siamo vergini quindi non abbiamo ancora installato niente il sistema è completamente vuoto allora adesso noi potremmo fare due cose potremmo importare una nostra chiave esistente gpg quindi sostanzialmente importare la chiave privata conseguentemente la chiave pubblica da una chiave che abbiamo già per esempio quella che usiamo per non so fare i push su su github oppure andare a creare una nuova copia di chiavi a cui io sinceramente vi consiglio di creare una nuova copia di chiavi per questa operazione e di eventualmente fare un backup della chiave privata altrove questo vi consente praticamente di andare a creare un password store usando questa chiave specifica quindi una chiave che avete creato qui sopra e che è per questo scopo qua allora come come fare allora facciamo gpg intanto meno meno help andiamo a vedere un attimo l'help che cosa ci dice quindi sto facendo le cose proprio step by step molto facili molto molto semplificata vedete qua gpg generate key quindi quindi quello che facciamo è gpg meno meno generate key ok così e adesso andiamo a scrivere le nostre cose qua possiamo possiamo anche saltare andiamo avanti adesso dobbiamo settare una passphrase allora normalmente vi direi di settare una passphrase qua potete settare una passphrase oppure schippare considerate che qui siete già in un sistema operativo che ha un file system cifrato quindi quando voi aprite il sistema siete voi che l'avete aperto con la vostra chiave quindi siete già a un substrato di sicurezza sottostante quindi qui potreste anche schippare e andare avanti così ah scusate ok andando avanti così ci troviamo in questa situazione quindi adesso se facciamo gpg meno meno list keys andiamo a vedere e vediamo che c'è è stato creato il mio key ring questo qua cioè il database delle chiavi e qua dentro troviamo la nostra chiave appena creata è una chiave molto semplice che in questo caso ci serve solo per fare funzionare pass quindi adesso torniamo qui facciamo così pass pass init adesso mi dice che cosa devo fare in questo caso io faccio pass init spazio scusate devo andare un attimo di nuovo a prendermi gpg quindi gpg meno meno list keys ecco andiamo qua vediamo la nostra chiave quindi quello che facciamo è gpg sì gpg scusate pass init spazio e ridi della chiave questo non fa altro che generare come vedete una directory di password store quindi una directory nascosta dentro la nostra home e così il password store viene inizializzato con questa chiave quindi cosa significa andiamo a vedere la struttura se noi andiamo nella nostra home andiamo a vedere che ci sono in particolare vedete questo password store quindi se io faccio così andiamo a vedere ottengo quanto mi interessa quindi adesso se io faccio pass il nostro nostro sistema è pronto come vedete non mi da più errore vuol dire che è pronto quindi io adesso posso andare a inserire password per esempio una sintassi molto semplice posso inserire una password semplicemente cioè per esempio sulla sulla root dell'alberatura delle password per esempio diciamo che ho la password del che ne so la password di un determinato servizio quindi diciamo servizio 1 e inserisco la password del servizio 1 e la chiedi due volte quindi adesso richiamo ancora come vedete mi fa vedere una bellissima anche carina alberatura dove mi indicizza le mie chiavi quando io faccio pass servizio 1 e lui mi dà fuori la password a questo punto la posso usare dove mi pare se io invece inserisco una password in questo modo qui per esempio servizio 2 e quindi io faccio il pin ok io faccio diciamo diciamo a così vedete come mi ha creato l'alberatura molto interessante no? io adesso posso inserire per esempio passphrase servizio 2 e cosa cosa ottengo ottengo? ottengo questa situazione qua quindi vedete molto molto veramente molto interessante quando devo tirare fuori la mia supponiamo che devo tirare fuori il pin del servizio 2 faccio servizio 2 barra pin ed ecco mi tira fuori il mio pin quindi veramente estremamente utile quindi io mi posso immaginare che in questo in questa struttura io a questo punto devo andare a infilare dei dati che mi sono utili per il mio management delle mie chiavi dei mie dei miei servizi delle mie cose su bitcoin quindi che cosa mi figura di poter andare qui a memorizzare? mi posso figurare di andare a memorizzare il pin del dispositivo per esempio c'è il pin per sbloccare il dispositivo mi potrei memorizzare eventualmente la passphrase dei wallet che ho riferiti al dispositivo naturalmente non la mnemonic la mnemonic ho il backup da un'altra parte su un pezzo di carta non è qua però qui potrei tenerci la passphrase cioè supponiamo che io abbia un dispositivo nel quale ho inserito per esempio una determinata mnemonic di cui ho un backup e dopo posso definire delle passphrase che mi definiscono tutti dei wallet secondari non vi ricordate ne abbiamo già parlato passphrase opzionale BIP39 quindi io potrei memorizzare le mie passphrase e naturalmente un'altra cosa che vi avevo già fatto presente era la questione del fatto che ogni volta che creo specifico un determinato wallet che può essere derivato da una mnemonic più una passphrase per esempio oppure dalla mnemonic da sola avrò una fingerprint di questo di questo wallet la fingerprint devo anche quella memorizzarla quindi ecco che potrei avere quindi un'alberatura di questo tipo diciamo così diciamo così diciamo così beatbox per esempio poi pin quindi pin e beatbox il passphrase del del mio wallet ipotetico wallet 1 diciamo così e la sua fingerprint poi sullo stesso dispositivo potrei avere sempre con la stessa mnemonica quindi potrei avere un secondo wallet che è determinato da una passphrase diversa il pin sarà sempre lo stesso una passphrase diversa e una fingerprint conseguentemente diverso ed ecco che ho la mia alberatura che posso vedere direttamente come come qua no come la vedete qua posso alberare finché mi pare questa cosa quindi è molto visuale anche se alla riga di comando e a questo punto io cosa succede che mi metto davanti al mio sportello ho il mio dispositivo ecco il mio dispositivo vado a tirarmi sul pin me lo sblocco vado a vedere qual è la mia passphrase inserisco sul dispositivo la passphrase a quel punto vedo qual è il fingerprint che risulta sul wallet che ho appena sbloccato e lo confronto con la mia fingerprint e sono sicuro a quel punto che sono sul wallet giusto e posso cominciare a operare quando opero naturalmente sarò sempre su questa workstation e andrò ad aprirmi il wallet conseguente per esempio mi vado ad aprire electrum eccetera 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 quindi questo strumento è estremamente a mio avviso più funzionale di qualunque altro strumento di management delle password in questa situazione specifica perché naturalmente parliamo di questo caso specifico cioè nel caso d'uso di una workstation per bitcoin se avete invece un se siete sul vostro computer ordinario e avete bisogno di un password manager per le password dei siti eccetera eccetera è chiaro che questo non è adatto potrebbe andare bene ma in questa situazione qua in cui avete determinati poche password poche informazioni specifiche per i vostri e veri è importante di avere non solo qualche cosa che è estremamente visuale in questo senso facile da gestire alla riga di comando ma che possa anche essere facilmente utilizzato da qualcun altro voi capite che in questo modo qui è molto semplice perché chiunque capisce qua cosa cosa deve fare per ottenere i dati che gli servono naturalmente sta a voi creare un'alberatura che sia diciamo così funzionale intelligente ordinata non fare confusione suddividere per wallet e quant'altro altre cose che si possono efficacemente memorizzare qui sono per esempio il vostro full indirizzo onion di un nodo bitcoin core che usate per connettervi con il vostro electrum potrebbe essere una chiave pubblica di un nodo lightning che usate diciamo così in modo diciamo così nascosto tra virgolette per fare determinate operazioni potrebbe essere la chiave privata di nostre che usate oppure potrebbero essere diverse chiave private nostre che usate per determinati scopi in futuro vedremo come fare anche a usare una chiave nostre per cifrare un messaggio che riguarda bitcoin e trasmetterlo a una controparte insomma potete memorizzare determinate cose vi suggerisco di non andare a inserire il mondo qua dentro perché dovete come come spiegavo l'altra volta focalizzarvi su poche cose assolutamente indispensabili perché questo deve essere un computer che vi permetta effettivamente di non fare confusione quello che vedo molto spesso sono utenti che si incartano dalla loro stessa complessità dalla stessa confusione che mettono l'ordine in questo caso è estremamente importante l'ordine in un certo senso determina la vostra sicurezza la vostra confidenzialità e anche la resistenza a un attacco fisico quindi è molto importante questo e passa da queste cose qua quindi queste due cose che vi ho fatto vedere oggi vi portano ad avere provatele provatele se volete naturalmente provatele subito mettete sul vostro definite sul vostro computer il vostro utente non privilegiato date gli permessi amministrativi quindi installate subito gpg e pass il gestore delle password create una coppia di chiavi gpg localmente come abbiamo fatto adesso usate la chiave che avete appena creato per inizializzare pass e per averlo a disposizione su questa macchina a questo punto potete inserire le password che vi interessano nel sistema per poter successivamente effettuare le operazioni che vi interesseranno con bitcoin naturalmente l'inserimento va fatto con una certa cura alberato per bene e inserite solo i dati che vi servono strettamente per le operazioni in questo modo quando voi farete il boot del vostro server del vostro diciamo workstation locale sbloccando con la vostra passphrase di sblocco della master key locale a quel punto lì diciamo sarà tutto lì sarà tutto quello che vi serve lì ovviamente a parte il segreto crittografico che sarà sul dispositivo hardware in questo setup uno o due dispositivi hardware sono assolutamente necessari il setup non prescinde da questo il setup non è fatto per detenere segreti crittografici ma è fatto per gestire efficacemente tutto quello che riguarda le transazioni e i dati relativi a bitcoin e tutte le operazioni che fate dunque per questo video qui è tutto non aggiungo altre cose altre cose in successivi video a riguardo provate queste cose qui seguitemi non solo sul canale ma anche sulla newsletter tecnica massmux.org sulla quale ovviamente faccio anche degli approfondimenti tecnici step by step sulle cose anche che vediamo nei video per oggi tutto grazie all'attenzione ci dobbiamo un appassionato ciao 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 ciao